Ciao! Bentornate su Mondo Cosmetic! Oggi video dedicato ai terminati del periodo. So che non è proprio fine mese, però tengo talmente tanti di quei prodotti che dovevo parlarvene. Sono ovviamente quasi tutti i brochet perché sono la maggior parte dei prodotti che utilizzo. Alcuni in realtà li ho già terminati anche un paio di volte, però in realtà ho preferito fare un unico video dove ve ne parlo un pochino. C'è un intruso però, c'è un intruso, nel senso che sono tutti i brochet tranne uno, anzi due, ci sono sempre gli intrusi. Allora andiamo avanti, presto presto diventa un video lunghissimo. Allora vi parlerò dei prodotti che io ho utilizzato di più nell'ultimo periodo della Yves Rocher. Altri li sto per terminare ma non mi sembrava il caso di metterli già in questo video. Cercherò di fare ogni mese un video dedicato comunque ai prodotti terminati in generale, non solo Yves Rocher. Allora iniziamo da questo. Eccolo qui! Oh è finito! Già ne ho le scorte. Allora questo qua è il bifasico, lo struccante bifasico occhi della Yves Rocher ed è un prodotto che io amo particolarmente, porto con me in accademia e che mi piace tantissimo perché ce ne vuole pochissimo. In realtà come terminati ci sarebbero anche i dischetti di cotone che però ho dimenticato di conservare la bustina per cui non li ho messi. In ogni caso io ne utilizzo veramente pochissimo sul dischetto di cotone ovviamente si agita per miscelare due prodotti un pochino sul dischetto di cotone e tengo un po' in posa sull'occhio senza fare questo movimento così insomma perché irrita solo gli occhi si tiene un pochino in posa si picchietta leggermente poi si tira giù verso l'esterno e tira via tutto il prodotto. È un prodotto veramente fantastico e vi assicuro che in accademia non sono stata io la prima a dirlo che potevo sembrare di parte ma c'era stato consigliato questo prodotto specifico di Yves Rocher da tenere sempre con noi per appunto struccare e struccarci quindi sono veramente molto fiera di questo prodotto anche perché oltre a sentirlo ovviamente da colleghe di lavoro ma è stato un prodotto suggerito soprattutto da un grande professionista che io stimo tantissimo quindi assolutamente questo è un prodotto che mi piace che tra l'altro ho già quindi già l'ho ripreso e non me lo faccio mai mancare ce l'ho anche nella borsa che porto con me in accademia. Sempre rimanendo in tema di struccaggio, detersione eccetera eccetera è finito questo che è l'acqua miscellare della linea sensitive. La linea sensitive è una linea dedicata alle pelli appunto sensibili e io ho una pelle particolarmente sensibile per cui l'ho terminato questo è il formato piccino nel senso che il più piccino perché questo comunque 200 ml e ho già con me di là in bagno il formato grande con l'erogatore che io amo e lo trovo molto molto comodo quindi diciamo che questo è uno di quelli che io ho nella borsa per quanto riguarda diciamo le clienti eccetera eccetera ma per me in bagno adesso ho quello formato grande con l'erogatore ed è un prodotto che io amo non utilizzo sempre sempre l'acqua miscellare che io sono una di quelle che ama l'acqua per cui preferisco la detersione con l'acqua ma non me lo faccio mai mancare perché a parte che è un prodotto che posso utilizzare in molteplici modi ma poi mi salva tantissime situazioni molto pratico lo utilizzo spesso anche diciamo in sostituzione del tonico quindi in realtà è un prodotto che io amo tantissimo vi dico che ho terminato il mio amatissimo gel detergente della linea pur camille questo è un prodotto che io ho amato follemente ma ho amato veramente tanto dall'inizio che ho iniziato a provare i prodotti della ibrush fino ad oggi perché è un prodotto che ha sempre fatto ciò che io chiedo nel senso che non mi ha mai irritato la pelle ha sempre fatto il suo dovere non mi tira è veramente fantastico ho fatto in passato già due recensioni un la prima e poi ho fatto una aggiuntiva del prodotto ma purtroppo non posso più ordinarlo perché questo prodotto non c'è più è stato sostituito dalla nuova linea pur camille che ho dimenticato di prendere perché ce l'ho tra l'altro lì il nuovo e è fantastico anche il nuovo fortunatamente non ha cambiato le caratteristiche per il quale io l'ho amato tanto e è semplicemente cambiata un po la formulazione questo era un po più liquidino ed era verde quello invece è un po più gelatinoso tra un po più denso sempre formazione texture in gel e ma ce ne vuole ovviamente molto meno di già di questo ce ne voleva poco di quello ce ne vuole proprio veramente pochissimo ma anche quello non mi irrita la pelle non mi tira mi deterge bene amo follemente anche l'altro quindi diciamo che piango per la perdita di questo ma nello stesso momento sono felice perché c'è un sostituto molto molto valido tra l'altro il prodotto è lo stesso è stato solo un po riformulato della stessa linea ho terminato anche l'olio micellare in realtà ce n'è veramente pochissimissimo però mi sembrava il caso di metterlo questo è un prodotto che io anche in accademia porto perché nonostante io abbia una pelle sensibile mista diciamo non ho proprio una bella pelle questo qui che è un olio miscellare quindi un olio detergente e struccante appunto olio mi riesce scioglie tutto tutto c'è veramente ne basta una diciamo una pompettina scioglie tutto 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 il trucco waterproof tutto 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 per cui è un prodotto che io amo veramente tanto dopo sciacco il viso e ho terminato la detersione poi procedo col tonico eccetera eccetera è raro che dopo utilizzi il detergente perché in realtà non c'è bisogno utilizzare detergente dopo che questo è un olio micellare proprio appunto nato proprio per la detersione per lo struccaggio va bene per gli occhi le labbra il viso proprio per tutto quindi è un prodotto unico e io veramente lo amo tantissimo vi dico che questo io faccio spesso anche dei lavoro un pochino il legno la cera mi piace insomma fare un po di questi lavoretti e vi dico che toglie la pittura mi ha risolto un sacco di problemi con questa lavo benissimo le beauty blender insomma è un prodotto che io amo veramente tanto poi ne parlo nello specifico ho terminato la crema per i capelli la crema senza risciacquo io ne utilizzo tantissimo cioè tantissime nel senso che non me la faccio mai mancare perché io che ho capelli ricci non amo moltissimo utilizzare maschere e balsami da risciacquo io devo trattare i capelli in maniera un po particolare per cui ho la cute molto grassa le punte molto secche tendono a diciamo a spezzarsi sono molto diciamo sono dei capelli che hanno bisogno di essere trattati in un modo particolare io con questa mi trovo benissimo perché una volta terminato lo shampoo che tra l'altro cioè lo shampoo che tra l'altro io utilizzo diluito solo sulla cute eccetera eccetera lo utilizzo appunto una volta tamponato i capelli sui capelli bagnati prima di asciugarli questo mi aiuta tantissimo perché mi rende i capelli morbidi non li appesantisce non mi sporca la cute mi tiene riccio quindi non li appesantisce veramente è un prodotto fantastico ed è comunque un balsamo senza risciacquo quindi veramente fantastico poi sempre per i capelli ho terminato il mio spray ricci per capelli ricci anche questo non me lo faccio mai mancare perché io non utilizzo spume non utilizzo lacca non utilizzo nulla di prodotti che insomma mi vanno a seccare i capelli però ovviamente avendo il capello riccio ho bisogno di tenere il riccio quanto meno chiuso non troppo aperto altrimenti sembro una pazza più di quanto lo sia adesso e praticamente questo mi aiuta tanto perché una volta che ho passato la mia cremina ho tamponato un po' i capelli e quindi ho fatto stare un po' il capello ho fatto togliere l'acqua in eccesso insomma inizio ad asciugare i capelli a metà asciugatura spruzzo questo e poi continuo con l'asciugatura del capello e mi tiene il riccio benissimo non attacca i capelli non li secca non li fa diventare crespi quindi mi piace tantissimo sempre per i capelli ve li faccio vedere insieme perché sono tre sciampi ho terminato questi considerate che non li utilizzo solo io perché in casa utilizziamo tutti i prodotti ovviamente i brocci anche perché io non acquisto più i shampoo da supermercato ormai da un po' questo qui è uno shampoo delicato alla mamelis questo lo utilizzo spesso su mia figlia che ha adesso 5 anni e ha anche lei una cute molto delicata i capelli sottili e io utilizzo questo e veramente mi trovo benissimo ho utilizzato per un po' sia su di me che sulla mia piccolina il l'opo della diciamo appunto lo shampoo in realtà che lo può e questo shampoo in crema molto delicato devo dire che io lo utilizzo diciamo in maniera periodica non sempre perché avendo un capello grasso ho bisogno comunque ogni tanto io di detergere in maniera differente la mia cute per cui questo lo utilizzo come vi dicevo in maniera alternata mi piace perché quando vado in palestra e mi alleno ovviamente non faccio lo shampoo tutti i giorni però questo laddove io ho bisogno di fare uno shampoo più frequente quindi in maniera più ripetuta questo va benissimo anche questo lo uso in maniera periodica su mia figlia e lo alterno con questo qui però diciamo che lo shampoo di mia figlia è proprio questo poi ho terminato lo shampoo per capelli grassi che utilizziamo io e mio marito io spesso utilizzo quando faccio lo shampoo faccio due passate e spesso faccio la prima con lo shampoo per capelli grassi perché ho una cute molto grassa e quindi per pulirla a fondo e poi utilizzo un altro shampoo dipende un po' da quello che in quel periodo voglio utilizzare diciamo che di base questo qui è sempre quello che utilizzo come prima passata mio marito anche si trova benissimo quindi questo qua in casa mia non manca mai sempre parlando di shampoo vi volevo dire una cosa perché ho detto che io ovviamente non uso balsami non li amo particolarmente ogni tanto lo utilizzo questo ci ho messo veramente un po' a terminarlo perché in virtù del fatto che io non utilizzo sempre il balsamo ovviamente non lo utilizzo frequentemente in più di questo ce ne vuole veramente poco quindi ci ho messo un po' a terminarlo però devo dire che tra come balsami è un balsamo che mi piace molto perché sento veramente che dopo il capello è come se fosse rinvigorito perché questa è un'azione ristrutturante quindi di riparazione del capello e io avendo il capello comunque danneggiarsi danneggia facilmente ho bisogno ogni tanto di qualcosa che gli dia un po' di vitalità o comunque di che vada a ristrutturare la fibra capillare quindi ogni tanto alterno questo il siro exceptional insomma un po' di prodotti per i capellini vi parlavo di un intruso proprio dei capelli perché a mia figlia per un periodo avevo visto questo prodotto bio in un supermercato non mi ricordo nemmeno dove credo che io l'abbia preso da Eurospin non andai davvero a spenderlo vidi ed è un prodotto bio e mi aveva incuriosito moltissimo proprio perché dalle caratteristiche mi sembrava veramente un buon prodotto e ho pensato di provarlo su mia figlia questo in realtà è un detergente mani e sederino voi direte che c'entra con lo shampoo? niente però me ne sono ricordata perché della stessa linea avevo preso uno shampoo doccia che anche ho utilizzato su di lei ma che in realtà non ho terminato sono arrivata a metà e poi l'ho buttato perché non mi è piaciuto questo qui invece devo dire che è stato carino come prodotto certo non è uno di quei prodotti che se non acquisto mi creo il problema perché voglio dire un prodottino semplice, carino, simpatico, costava poco se non ricordo male parliamo intorno ai 2,90 o una cosa del genere ed è comunque qualcosa di comodo laddove volevo utilizzare un prodottino per le manine un po' più delicato magari da alternare perché questo comunque va bene per i cambi pannolino eccetera eccetera è vero che mia figlia adesso non ha più il pannolino però comunque io ci tengo molto insomma all'attenzione della detersione per quanto riguarda lei quindi mi piace provare anche dei prodotti differenti e questo qua devo dire che non è male è stato un prodottino carino laddove dovessi trovarmi di nuovo a dover acquistare un prodotto simile sicuramente questo qua lo riprenderò poi ho quasi finito e vi assicuro poi ho terminato il bagno doccia questo qua della linea Le Plesier questo qui era il bagno doccia a menta piperita e mora ed è stato molto carino devo dire che io preferisco della linea Le Plesier le profumazioni classiche quindi la vaniglia, mandorla insomma queste profumazioni qui io non sono un amante dei prodotti a base fruttata per intenderci però devo dire che questo qua è stato molto molto carino ho terminato molto volentieri lo riprenderò più avanti soprattutto ho già il formato mini e lo trovo molto carino ripeto preferisco delle fragranze differenti ma per gusto personale però per chi ama il bagno diciamo farsi una doccia con una profumazione un po' più fruttata un po' più diciamo tra virgolette presente perché all'interno comunque c'è la menta piperita secondo me è molto carino molto molto carino questo qua normalmente costa 3,95 euro il formato grande è da 400 ml quindi insomma ok avevo di una linea vecchia che adesso non c'è più la linea bio questa qui era la linea bio all'olio d'argan e lo avevo e veramente mi è dispiaciuto moltissimo finirlo mi è piaciuto tantissimo mi è sempre piaciuta tantissimo proprio questa linea qui di queste qua che appunto andavano nella manina adesso non ci sono più e l'ho trovato molto molto carino molto delicato mi è piaciuto tantissimo e mi dispiace non poterlo riacquistare anche se comunque devo dire che per quanto riguarda la questione la praticità del formato c'è comunque il concentrato nuovo per quanto riguarda la questione del carité c'è tutta la linea nuova dedicata al carité per cui diciamo che mi dispiace però ho trovato il sostituto degno poi per quanto riguarda la crema e viso io ho terminato la crema notte la crema notte della linea serum luminosità quindi la linea luminosità io l'ho utilizzata di notte adesso sono passata a un prodotto un po' più strong perché sono comunque un po' più vecchietta quindi insomma cambio prodotto però mi è piaciuta tantissimo perché aveva una consistenza comunque di questa linea qua era un po' più corposa per cui a me piace molto l'effetto della crema corposa di sera adesso che non vi nascondo ho provato la sleeping care della Genesse non vi nascondo che mi piace molto anche l'effetto della sleeping care perché pur non essendo molto diciamo densa come crema è molto nutriente e fa proprio veramente il suo dovere non dà quel senso insomma di avere la crema questa in verità non dà l'effetto di avere una crema diciamo pesante però comunque io la utilizzavo diciamo in forma un po' più ne mettevo un po' di più insomma proprio perché volevo che di notte siccome io sono una che ha la pelle un po' problematica ci sono dei periodi in cui preferisco avere una sorta di maschera quindi oltre alla maschera e a fare tutti i trattamenti specifici mi piace anche dare uno spessore di crema in più e sentire proprio che la pelle si sta nutriendo bene quindi questo è terminato e veramente mi è piaciuta tantissimo della stessa linea faccio così perché in realtà scusate il rumore ma guardate qui ce l'avevo da parte ho terminato anche il fluido levigante sempre della linea serum questa qui lucentezza o meglio rughe luminosità è una crema questa che andava bene per le pelli miste perché essendo in formulazione fluida era un po' più leggera e quindi per il giorno mi andava benissimo non mi nascondo che ho usato anche sapete che alterno un pochino la crema della Hydra che ho qui e la linea sensitive che tra l'altro utilizzo anche che utilizza anche mia figlia e quando non voglio usare un anti-age o comunque ho bisogno di avere la pelle un po' più leggera diciamo così tra virgolette utilizzo sempre un prodotto che non è anti-age anche se adesso come vi ho detto passo alla giness per cui lì sono tranquilla però mi piaceva insomma l'utilizzo di questo prodottino veramente molto carino quindi di giorno questo e di notte questo qui della stessa linea sempre ho utilizzato il contorno occhi e questo qui ha praticamente il roll on non so se si vede voglio vedere sì ve lo riesco a far vedere eccolo qui ed è stato molto comodo quindi in realtà è un prodottino facile lo utilizzi qui poi comunque picchietti un pochino il prodotto che esce comunque crema quello che esce non è gel quindi lo vado ad applicare nella zona del contorno occhi lo picchietto un po' mi allungo anche un po' verso le tempie quindi questo è stato veramente un buon prodotto come vi ho detto ho utilizzato anche la linea Hydra e la linea Hydra in realtà l'ho usata associata con il concentrato la linea Hydra questa qui che ho utilizzato io è stato il gel crema 24 ore il gel crema intenso 24 ore proprio quando avevo proprio bisogno di idratazione e come vi ho detto l'ho usato con il concentrato questo qua appunto sempre della Hydra quindi è proprio una botta di idratazione che dava alla pelle quindi diciamo un po' noi sappiamo quando abbiamo bisogno di più acqua rispetto alla nutrizione di un prodotto per cui mi sono affidata tantissimo a queste e mi sono trovata benissimo mi piaceva la profumazione mi piaceva la consistenza del siro in particolare ho adorato la consistenza vi devo dire che però questa linea cambierà sarà tutta completamente nuova per cui se questa l'ho amata quella la adorerò però insomma era doveroso dirvi che questa qui è una linea che troviamo ancora e sicuramente se la utilizzate continuate perché è favolosa ma sicuramente cambierà perché uscirà la nuova Hydra e sarà completamente diversa poi ho usato il siro restringipori della linea Sebo ultimamente devo dire che non ho più necessità di andare a cercare di restringere un po' i miei pori mi sembra che adesso la situazione sia un po' migliorata ma devo dire che questo mi ha aiutato tanto quando dovevo fare un trucco un po' più particolare e avevo la pelle un po' più problematica quindi magari i pori si vedevano un po' di più il siro mi ha aiutato veramente tanto in questo momento non lo riacquisto proprio in virtù del fatto che comunque per il momento sta andando bene però comunque è un buon prodotto che sicuramente consiglierei a chi ha la pelle mista appunto che ha bisogno di agire sui pori e quindi senza problemi poi ho utilizzato e ho finito il balsamo nutri riparazione delle diciamo punte secche è un prodotto che ho utilizzato tantissimo anche prima di utilizzare questo qui perché questo qua in realtà ha una formulazione molto fluida che riesce benissimo ad essere assorbito senza essere senza dare effetto diciamo pesante sui capelli ma in maniera mirata per le punte ovviamente l'ho sostituito con la crema trattante che comunque ha un effetto molto simile perché comunque oltre ad andare a trattare le punte io utilizzo anche sulle lunghezze per cui quello adesso mi basta questo tra l'altro se non ricordo male non è più ordinabile quindi comunque è un prodotto che è andato ma mi sono trovata veramente bene e poi l'ultimo prodotto che ho finito ma di questi ne sto finendo veramente tantissimi sarà un po' complice l'accademia non so sarà il fatto che comunque adesso sto un po' più attenta anche alla pulizia degli strumenti ma l'avio è uno dei prodotti che non mi faccio mai mancare né per la pulizia diciamo per ovviamente pulire a fondo i pennelli che vado a utilizzare sulle clienti sia per l'utilizzo in accademia ma anche a casa ovviamente pulirli con l'avio mi dà un risultato diverso ho utilizzato il cleanser della Wicon ho utilizzato altri cleanser ma sicuramente la performance la sicurezza anche in termini di diciamo di pulizia che mi dà l'avio non me lo dà niente tra l'altro l'avio asciuga subito rapidamente evapora in fretta non può dare non c'è rischio che crei dei problemi per cui vi assicuro che io questo qua lo sto utilizzando quasi fosse l'acqua niente io ho terminato so che ho parlato a raffica però veramente erano tantissimi prodotti per cui doveva per forza venire un video lunghetto però ho cercato di non dilungarne molto in ogni caso spero che vi sia piaciuto questo video vi aspetto col prossimo dei prodotti finiti che sicuramente avrà anche altri prodotti non solo i brochets e se ti è piaciuto il video anche se è un po' lunghetto mi rendo conto pietà pollicino in su se ti piace seguire i miei video iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato sulle pubblicazioni dei miei video che ne farò a proposito scusate se spesso li vedete così ma io approfitto quando posso registrare registro sempre quindi mi vedrete un po' così vi mando un bacio grazie per essere stati con me vi mando un abbraccione grande ciao ciao